E' stato appena firmato un importante accordo tra il MIAC, il Mercato Ingrosso Agroalimentare dei Ronchi, e la CNA di Cuneo. Abbiamo il presidente del MIAC, Marcello Cavallo, e la direttrice della CNA ai Cuneo, Patrizia Dalmasso. Allora, di che cosa si tratta innanzitutto? Ma è il polo agri-food che fa parte appunto del MIAC, è un polo di innovazione e di ricerca e con questa convenzione si vuole mettere a disposizione delle imprese i servizi del polo. I servizi del polo agroalimentare sono servizi che mirano a far sì che ci sia una tracciabilità dei prodotti, che non è solo la tracciabilità convenzionale ma una tracciabilità diversa, che racconti la storia del prodotto, dell'impresa, eccetera. Il packaging, l'importanza di fare rete tra le imprese per anche fare dei progetti comuni che possono trovare anche delle risorse a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunitario. Insomma, una rete di imprese che fanno capo al polo proprio per l'innovazione e la ricerca. Ecco, abbiamo parlato di innovazione e ricerca nel campo agroalimentare, quindi ci rivolgiamo soprattutto alle imprese di quel settore. Assolutamente sì, per CNA è assolutamente un valore aggiunto questo accordo siglato oggi con il MIAC perché vuol dire valorizzare ulteriormente quella che è la produzione delle nostre eccellenze, fare rete, fare squadra e soprattutto vuol dire anche poterci proporre su altri mercati, visto anche la posizione della nostra provincia che è un territorio molto avvocato all'export, all'internazionalizzazione e quindi vuol dire andare con maggior sicurezza, con maggior precisione su altri mercati e confrontarci con i competitor che sono sempre ovviamente più aggressivi. Le nostre attività sono attività di grande eccellenza, soprattutto nel settore dell'agroalimentare, per Cuneo in particolare è una punta di diamante questo settore e quindi risulta molto importante per un'associazione come la nostra poter accompagnare le nostre piccole e medie aziende di questo comparto anche sull'innovazione e anche sulle nuove tecnologie e anche in progetti poi europei. Questo è fondamentale, sarà un gran lavoro fatto insieme in sinergia che darà ulteriori soddisfazioni ai nostri imprenditori. Grazie.